Yannick Sinner, Yannick Sinner non finisce di meravigliarci, batte Zverev, il tedesco Zverev, 7-6, 5-7, 7-6, nonostante il periodo di difficoltà fisica riesce a portare a casa una finale di un Master 1000 qui a Cincinnati, una Zverev sicuramente molto più in forma di lui, una Zverev che alla fine sconsolato lo abbraccia perché i colpi e i numeri del campione non mancano, perché i colpi e i numeri del numero 1 al mondo non mancano, una finale meritata, una finale dove prima ha battuto il numero 6 al mondo, poi ha battuto il numero 5 al mondo e questo dimostra la forza, la forza di questo giocatore che non finisce mai di stupirci, dove ieri ha saputo lottare, dove ha stretto i denti, dove ci ha regalato una miriade di emozioni, un campione che stasera con Tiafò potrebbe vincere questo Master 1000 e allungare su Djokovic e Alcaraz. Complimenti a Yannick perché ci sta regalando veramente una montagna di emozioni. Un saluto a tutti, vi ringrazio sempre per cliccare in basso a destra e dire liberamente la vostra, sullo sport, l'iscrizione è gratuita, fatelo, cliccate e seguitemi. Ciao!